Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nel 1565, siamo a puntata di Eurotrack Simulator 2 Partiamo subito, ci ha generato un po' di complicazione Noi ne approfittiamo, come gli avvoltoi, via via, mettiamo un po' di retardo l'inserito, via Buona domenica a tutti ragazzi, oggi è domenica, oggi è domenica, ho il calendario 13, oggi è domenica 13, quindi ci sta Poi, ancora un video dopo questo, la mia sessione di registrazione è finita Sono bello contento L'altro sta iniziando a tramontare un pochettino il sole Come avete iniziato a registrare questa sessione alle 16, sono 16.34 Non è anche tanto tardi, però Poi questo, qui mi vedete che aumento, io ho questi tre tasti qua sul G27, 1, 2, 3 Cioè ho per il cruise control, questo mette, inserisce, disinserisce Questo, questo abbassa e questo alza la velocità Cosa che, ora facciamo la curva, io sinceramente ho preso un po' troppo forte Meglio rallentare un petto qua in questa curva, in questa serie di curve Questa è la R-line, la Basalt R-line che mi ha soppassato prima Nella realtà, questo camion ha, in posto dei comandi al volante, che come vedete non ha La leva quella lì delle frecce, quella lì che si sta muovendo Abbiamo Res, Hatch e Rett Che sono, e poi abbiamo anche un On-Off Si vede piccolino, di fianco al simbolo degli abbaglianti e delle frecce Che praticamente tu facevi, ve lo faccio vedere di qua Facevi Reset, poi facevi Accelera, Decelera E On e Off Praticamente tu, questo qui era un tasto che potevi lasciarlo schiacciato su On o su Off E si usava quel cosino lì per impostare il cruise control Un po' come Volkswagen circa nuovi Volkswagen circa nuovi, cosa vuol dire? Non lo so Quelli che non hanno comando al volante, o Audi anche, mi sembra che alcune siano così Alcuni Volkswagen sono così Quelli che non hanno magari comando al volante qua, ce l'hanno dietro sulla lettina delle frecce E... è così Su questo era così Guardiamo un filino qua, che orse è meglio Un prudo, un orecchio Mi credo fa un acceso, sì, sì Bene Che cosa stavo dicendo poi? Scaliamo mezza marcia Non mi ricordo io Qua c'è il divieto di sorpasso Nell'autostrada a quattro corsia e in quarta corsia, quindi in terza corsia ci puoi andare Mi sembra di aver capito da quel cartello, non lo sapevo sta cosa Quanto pare in Austria cosa è E... e niente si faceva dire tutto qua La stessa cosa vale per i giri da fermo, tu acceleri ed eccelleri Che poi lì c'è scritto Hachret A me sembra... Sembra... vi parlo di un pacco di anni fa Quando mia papà aveva questo camion Camion Che ci fosse scritto Decel Ma potrebbe essere che me lo son sognato Che c'era A... A-C-C-E-R-S Sono sicuro Però... Quel... R-R-E-T Mi suona un po' strano Mi sembra che ci fosse scritto Decel Era De-C-E-C-E-L De-C-E-L mi sembra ci fosse scritto Ma non ne sono proprio 100% sicuro, eh Bisognerebbe... poi che me lo vado a vedere Anzi me lo segno Alexa Imposta un promemoria tra 40 minuti R-Retarder Scania Così faccio prima, non uso il telefono, tutto quanto Voi... voi avete la fortuna Ve lo potete cercare da un momento all'altro Qua mi serve veramente passare di là, sì Perché tante volte Questo Euro Truck Vi fa passare per di qua Quando in realtà non ce n'è assolutamente bisogno Togliamo la freccettina Vi fa passare per di qua Quando potete tranquillamente andare dritti In questo caso no Perché come vedete è uno svincolo Però vi fa passare tutto di fianco E poi vi fa rientrare Sia di svincoli che si può trovare Per dire in tangenziale Milano Vi fa prendere a destra Tutto e poi vi fa rimettere Come fanno i furbacchioni in tangenziale Per l'appunto Stiamo di qua Come cacchio fanno a mettersi in questi modi Questi qua è già il secondo che becchiamo nel giro di poco tempo Che poi è brutto rimanere a piedi in autostrada Cioè la gente che ti svernice Ti passa un millimetro E una volta Una volta in tutta la mia vita sono rimasto a piedi in autostrada Oltretutto con l'ambulanza In un pezzo di strada che Per fortuna non si sa quale santo C'era uno straccio di corsia di emergenza Larga Poco Tanto quanto un furgone Due metri Da Sulla A7 Tra Isola del Cantone Subito dopo l'uscita di Isola del Cantone Direzione Vignole Direzione Milano per capirsi Tra Isola e Vignole Subito dopo L'uscita di Isola Un pezzettino lì Dietro una curva sono rimasto E Sono stato lì parecchio Ora non mi ricordo quanto Avevo oltretutto anche il paziente in cima Per fortuna non era un'emergenza Però ho dovuto aspettare che arrivasse Il Quelli dell'autostrada Perché l'ho chiamati subito Ma prima che arrivano I camion devo andare di là Prima che arrivano magari ci mettono un po' Non c'era scritto Dove sono andato San Michel Dove sono andato Scusa non c'era il disegno dei camion Ora ho sbagliato strada E vabbè Forse in realtà Non mi sogno di fermarmi qua Che marcia ho? Poi uno Non mi sogno di fermarmi qua Ma qui nel gioco Probabilmente Arrivi qua Dov'è il mio camion Qua Vai di là E poi qua finisce la strada Come vedete Quindi no Ma a me sembrava di aver visto qui Che ci fosse il cartello Che indicava Camion di qua Ah no Camion San Michel Prima E camion di qua Ok ho capito Ok mettiamoci qua Via via Partiamo subito Via retard Eccoli qua Questo è il simbolo dei camion Credo Sembrerebbe di sì È da una cifra di tempo Che non vengo in Austria Via E E niente Poi ho dovuto aspettare I miei colleghi Che oltretutto erano I miei due responsabili Che sono venuti Con l'altra ambulanza A prendere No me l'hanno portata a me E l'altra Perché io dovevo finire il viaggio E loro poi se la sono vista Sono vista Con carattrezzi Tutto quanto Però il primo pezzo Prima che arrivasse il carattrezzi Che ci ha portato in piazzola Per fare lo scambio del paziente Con la barella Farli in mezzo Da motostrada Due corsie Che poi di qua Non c'era niente C'era il muro C'era un muro Un fosso alto Tipo 30 centimetri Che se andavi dentro Ti appoggiavi Il muro Quindi non potevi fare miracoli Qui c'è di nuovo Qualcuno fermo E Io ero Sulla riga Se non Anche più in qua E lì Subito dietro una curva Se si beccavano In teoria Due camere non potevano soppassare Ma un camere e una macchina Non si potevano spostare Ti sverniciavano Prima di tutto Mi sono fatto anche un'esperienza Che io lì Ho avuto paura Dal primo momento Finchè non ci siamo fermati Sopra un eurocargo Un carroattrezzi Con un furgone Uno sprinter Immaginatevi Lo sprinter 4x4 Che oltretutto è alto In tutto sono da terra Due metri a 70 circa Due sessanta Due sessanta Immaginatevi Quanto poteva pendere Andavi Facevi le curve Vedevi questo Che faceva tutto così E ho detto Mamma mia Mamma mia E ho detto C'eravamo io Il mio collega Che era dietro col paziente La paziente E il figlio Ho detto Mamma mia Quando entravamo nelle gallerie Una galleria Ho detto Questa la prendiamo Poi ci siamo passati Non si sa come Per pochissimo Pochissimo Perché io non so Quanto puoi essere Di altezza sopra A un eurocargo Minimo minimo Un metro Un metro Un po' di più Quindi il minimo Eravamo 370 Siamo passati tutti Sulla destra 370 Un camion ci passi Tranquillamente Perché il camion Sono più di 4 metri Quindi non è quello Il problema Però non so Mi ricordo che Mi sono spaventato E poi dondolavo un sacco C'è il divieto di sorpasso Effettivamente Ah circolazione A fare rispetto Vabbè Non mi ha detto niente Per il divieto di sorpasso L'ho visto prima Ma me ne sono fregato Sinceramente E E niente Tutto questo Perché mi era successo Perché il meccanico Dove era stata portata Io Mi ero battuto Fino in fondo Per non portarla lì Proprio 100% Che in quel periodo Che io lavoravo lì La usavo per l'85% io Forse anche di più Quella macchina lì E ho detto Portiamola alla Mercedes No Alla Fiat Alla Fiat Hanno fatto dei lavori Che poi non è mai più andata bene E si sono dimenticati Di attaccare il Ora non so Di stringere Di fare che cosa Il tubetto Del Del gasolio Alla pompa La pompa buttava fuori il gasolio E non arrivava il motore E si è spenta Si è spenta dentro una galleria Poi In folle Sono riuscito a portarla Un po' più avanti E mi sono riuscito Ad andare a fermare Fuori dalla galleria Se no Penso un po' A fermarti in galleria Vabbè Non lascio dire E vabbè Tutte esperienze che entrano Lui ci sono accese Ma a mia che galleria Sembra quelle gallerie Che si trovano in Norvegia Che giravamo là In cima Così era Qualche settimana fa Vedete qua c'è il divieto Di sorpasso Per il camion E mi ci sono buttato Non mi ha detto niente La pulizia Abbiamo 400 euro di verbale Per il Per il Per il Mi va più che bene Perché Il divieto di sorpasso C'è anche il ritiro Della patente Non so bene Quali siano le sanzioni Ma Superiori ai 1000 euro Forse addirittura Arrivoca della patente Non saprei Alexa magari lo sa Alexa Qual è la sanzione Per sorpasso Alexa stop Ci ho chiesto Subito Secondo Wikipedia La sanzione è un diritto Un diritto o qualcos'altro Che un diritto Va bene Hai ragione Tu Hai ragione Tu Stiamo andando Un filino di Mal di gola A fuori di parlare Tanto Qui riusciamo a immetterci Direi che non c'è nessuno Ora se questo Mi fa infilare Io mi infilo Vedete si mettono di fianco Sempre Mettersi di fianco Non vi sopporto Io vi tiro sotto La prossima volta Tiro sotto tutti Che me ne è frittato un po' Voglio dire Tra l'altro giorno Ah siamo arrivati No Per niente Tra l'altro L'altro giorno Lo dico nella prossima puntata Devo uscire Come ci arrivo qui Ho notato qualcosa di strano Su questo camion Fate un po' caso adesso Quando Vedete Io volevo andare Cosa facciamo? Fiorellino Ebbene io allora andavo a finire di là Facciamo così No Leva tutte sti cose qua Così Dritti Siamo dritti Ehm Non so se avete notato C'è va Il carrello davanti Più all'interno Qui È riuscita la marcia Qua suona che dobbiamo fare La pausa Signora Mi fai Sembra suonare Qui suona sempre A me tanto abbiamo il disco Col disco si aggiusta sempre tutto Io Non sono Non sono Non Non mi assumo la responsabilità Di quello che Che Possete aver capito Con questa affermazione Ve lo dico Io sono uscito con la freccia a sinistra Proprio sono l'esempio di Della buona condotta alla guida Gasolio non lo facciamo Ce l'abbiamo ancora Tre quarti Sono 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 Che ora è Le 9 e un quarto Qui c'erano gli orologi digitali Non semplici da leggere Come quelli analogici Buon Ci fermiamo Io direi che ragazzi Per questa puntata può essere tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Ciao a tutti Ma A proposito Non funziona la scritta vuoto dietro là Non funziona più Ah ok Ora si Ciao a tutti